Poco meno di un anno nel paese di Nemoli già si respira aria di elezioni amministrative. Il piccolo Borgo Lucano il prossimo anno sarà chiamato alle urne per il rinnovo del Consiglio Comunale, ente guidato oggi dal sindaco Antonio Filardi, che dopo aver raggiunto il secondo mandato consecutivo non potrà candidarsi alla carica di primo cittadino. Dal Palazzo di Città sembra però delinearsi già qualcosa in vista del nuovo impegno elettorale. Dall'amministrazione il capogruppo di maggioranza Domenico Carlo Magno ha ideato per le prossime settimane degli incontri con i suoi cittadini. L'ex sindaco del comune e presidente dell'area programma Lagone Grese Pollino si è fatto promotore di un primo incontro con i giovani di Nemoli. La data è fissata per la sera dell'8 luglio, lo slogan di presentazione dell'evento e costruiamo insieme il nostro futuro. Destinatari del messaggio come detto i nati tra il 1980 e il 1996. Siamo convinti che per innescare processi virtuosi di crescita, sviluppo e occupazione, ha spiegato Carlo Magno, sia utile portare gente sul territorio. E' questa l'analisi che abbiamo effettuata, ha precisato il consigliere, partendo da specifici elementi di progettualità, spettacoli, servizi, albergo diffuso, ma anche la casa di riposo e gli impianti sportivi comprensoriali. Sono queste, a ribadito Carlo Magno nel manifesto di invito agli incontri, le progettualità interagenti del mosaico che dovrà ridisegnare il futuro di Nemoli. L'incontro, ha infine retto il capogruppo di maggioranza, vuole essere il primo punto di partenza per un nuovo progetto amministrativo.